La consigliera Gemma Caprini è risultata assente alla seduta del Consiglio Comunale di Battipaglia. Tutti aspettavano la pubblica assise di ieri sera per verificare l'entrata in Consiglio Comunale tra i banchi dell'opposizione, quindi non più in maggioranza, come annunciato in questa settimana, della consigliera eletta nelle liste Tossi-Sindaco ed invece all'appello della seduta è risultata assente. Un civico consiglio in soldi con i banchi dell'Aggiunta quasi vuoti dopo le emissioni rassegnate dal vice-sindaco Cottozzi dagli assessori Francesca Napoli e Laura Toriello. La Caprino, probabilmente per altri impegni, ha preferito disertare la seduta del Consiglio ed attendere la prossima per sedessi tre banchi dell'opposizione.